Problemi di marketing? Non ti preoccupare, sempre c'è un Darwin Tip per risolverlo! Per trovare la super idea devi prima trovare un obiettivo e prima di trovare un obiettivo devi trovare un problema. Dopo che hai trovato il problema e l'obiettivo comincia la caccia delle idee, allora comincia il pensiero, pensi e pensi, può darsi non arriva e che devi fare? E' quello che ho fatto io, uscire dall'ufficio, uscire dalla casa, andare con gli amici, dimenticare il problema, l'obiettivo e le idee. Quando hai dimenticato tutto e stai parlando con qualcuno o succede qualcosa e lì è il momento perfetto, cade l'idea, la riconosci, la prendi, la lavori e fai un successo. Questi e tutti gli altri tip di marketing su Darwin Tips, ci vediamo!